Musica Non ce l'ha fatta Serena Poccare, infermiera di 52 anni, morta per coronavirus. Era stata ricoverata per Covid nell'ultima settimana di dicembre, dopo la manifestazione dei primi sintomi della malattia intorno a Natale. Il decesso si è verificato, secondo quanto riporta il quotidiano al piccolo, nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Cattinara. La cosa che più mi ha colpito è non avere più potuto parlare con lei dal vivo, ha raccontato il marito. Ci sentivamo solo per telefono, non l'abbiamo più rivista, era isolata. E ci sentivamo isolati anche io e mia figlia. È una sensazione che capisci solo se ci passi, ci manca Serena. Era una persona dall'animo buono. Eccoci solo per la vicenda. Cattare la notizia da faccia. Noggiare il fenomeno. Era un po' diνεре. È un po' diendre per la vicenda. O inizia viene incontro. Inizio come si è accettato.